Il libro Il sale in viaggio da Venezia al Cadore, edito dalla Compiano Editore di Treviso, di cui io sono coautore insieme alla dottoressa Irene Spada, si è interessato alla vendita del sale cadorino per la magnifica comunità di Cadore. Il libro ha analizzato la tratta quindi che dalla punta della dogana portava fino al territorio cadorino. È bene però dare alcune notizie sull'importanza del sale nella storia di Venezia, notizie che molto spesso sono trascurate e sconosciute ai più. Innanzitutto ricordiamo che la coltivazione del sale nella laguna veneziana e nella regione della Venezia Istria è già ricordata a partire dal VI secolo d.C. circa, dove in una lettera ai tribuni marittimi Cassiodoro ricorda che la coltivazione del sale era già ampliamente sviluppata e che il sale costituiva la vera e propria moneta con cui gli abitanti della laguna riuscivano ad approvvigionarsi di tutte le vettovaglie che la laguna non produceva, quindi frutta, carne, verdura, ecc. Il sale fu sempre al centro dell'interesse veneziano, tanto è vero che già nel 1281 ci fu la promulgazione da parte del maggior consiglio, massimo organo della Repubblica, nel cosiddetto Ordine del Sale o Ordo Salis. Questo Ordine del Sale prevedeva che qualsiasi mercante veneziano che avesse esportato delle spezie o comunque dei panni, ecc. delle mercanzie fuori da Venezia, dovesse far ritorno a Venezia con una determinata quantità di sale che era stabilita in base ad un tariffario. Le zone di produzione del sale furono all'inizio, nei primi secoli della Repubblica, le zone all'intorno della laguna ed erano di proprietà per lo più dei monasteri. Questa proprietà di enti ecclesiastici è dovuta forse per lo più al fatto che gli archivi degli enti ecclesiastici si sono conservati meglio rispetto agli enti laicali. Inoltre, con l'espansione di Venezia nel Mediterraneo, possiamo dire, e con la costituzione dello Stato da Mar, le zone di produzione del sale si spostarono soprattutto in questa parte dei domini, vale a dire a Capodistria, Pago, Pirano, le regioni poi anche della Morea, quindi dell'attuale Grecia, Corfu, Zacinto, alcune zone del Pelo Ponneso, ma soprattutto la zona di produzione più importante di tutti i domini veneziani fu Cipro. Il sale costituiva la vera e propria base di tutta l'economia veneziana. Infatti si pensi che lo storico francese Brodel ha stimato pari all'81% il ricavo netto per la Repubblica per ogni unità di sale sul prezzo finale, quindi un bene altamente remunerativo. Possiamo inoltre aggiungere che il sale continuò a restare ininterrottamente, anche nella metà del Cinquecento, questo si può notare, ininterrottamente un bene estremamente importante. Il Podestà di Treviso nel 1550 afferma che il 60% del gettito alla Camera Fiscale di Treviso, che comprendeva grossomodo l'attuale territorio della provincia di Treviso, il 60% del gettito era dato appunto dalla vendita del sale ai privati, quindi una somma estremamente considerevole. Nel 1571 ci fu la perdita dell'isola di Cipro e quindi sostanzialmente anche della zona di maggior produzione del sale, a cui la Repubblica cercò di far fronte incrementando la produzione nelle altre saline dello Stato da Mar. Ma comunque non sortì alcun effetto. Inoltre questo contraccolpo economico fu anche, diciamo, si aggiunse a questo contraccolpo economico anche alcune innovazioni tecniche navali che avvennero nei paesi del nord che permisero a questi paesi di poter prendere il sale alle Baleari e quindi di non far più riferimento a Venezia per l'acquisto di sale che nel corso dei secoli si era imposta come esclusiva venditrice di sale per praticamente, possiamo dire tranquillamente, per quasi tutta l'Europa. Se venne meno però il mercato, diciamo, estero, non si acquietò la richiesta di sale nel mercato interno e questo si vede proprio a partire dal Cinquecento ed è proprio a partire dal Cinquecento che si innesta la storia del sale e del Cadore. La nostra ricerca parte infatti dall'anno 1508, anno della famosa battaglia di Russecco, ma anche un anno molto particolare per i cadorini perché sarà l'anno in cui perderanno la libertà di approvvigionarsi di sale e verranno assoggettati al monopolio di Venezia. Il volume si divide in tre parti essenziali, la prima parte parla della tratta. Con Ducale 4 ottobre 1511 ci fu un cambiamento fondamentale per quella che sarà per secoli la rotta del sale da Venezia al Cadore. Una rotta che se prima partiva da Porto di Nogaro adesso partirà da Porto Buffolè. Ebbene, infatti, ricordare che il trasporto del sale da Venezia fino a Porto Buffolè era totalmente a carico dello Stato. Il trasporto del sale da Porto Buffolè fino al Cadore era a carico della magnifica comunità. Quindi con Ducale 4 ottobre 1511 si passò per i cadorini da approvvigionarsi a Porto di Nogaro al nuovo porto sulla livenza di Porto Buffolè. Un traffico quindi che partiva da punta della dogana, si snodava attraverso la laguna e con i burchi arrivava a Porto Buffolè. Da Porto Buffolè attraverso i carri arrivava a Serravalle, luogo del secondo magazzino del sale Cadorino, e poi su fino al Cadore accompagnato dai conduttori delle diverse regole del Cadore. La seconda parte del volume tratta non solo della quantità e della qualità del sale, molto importante per la storia appunto del sale del Cadore, ma anche il prezzo. Un prezzo che era per i cadorini estremamente calmerato se si pensa che la stessa quantità di sale che veniva venduta ai cadorini sulla piazza di Treviso costava 23 volte tanto. La seconda parte però parla anche dei magazzini, come abbiamo già ricordato, che erano a Porto Buffolè e a Serravalle e a tutto il mondo che gravitava intorno ad essi. Un mondo fatto di diverse figure che vanno dai burchieri ai carrettieri, ai conduttori, agli spedizionieri e daziari, ma anche i contrabbandieri. La terza parte invece accompagna questo trasporto con un appendice documentaria di 128 documenti che vanno dal XIV secolo fino alla caduta della Serenissima, ma anche fino all'amministrazione austriaca e al Regno d'Italia. Una ricca appendice appunto di 128 documenti che secondo noi era fondamentale perché segna questo particolare commercio che abbiamo voluto descrivere in questo volume. Spero che questo libro apra l'orizzonte a nuovi studi su questo tema che è veramente affascinante e anche su questo territorio altrettanto affascinante. Buona lettura!